La Regione Lazio continua a puntare sul monitoraggio di chi rientra ancora a parte per le vacanze e per i luoghi turistici e nell'effettuazione dei tamponi e dei test rapidi. Domenica 30 agosto, per la prima volta, all'aeroporto di Fiumicino sono stati zero i positivi. Oltre 14.000 tamponi sono stati effettuati dal 16 agosto nei due aeroporti della capitale, Fiumicino e Ciampino, ha spiegato l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Sottolineando che è in atto un'inversione di tendenza, mentre all'inizio erano i sintomatici a richiedere il tampone, ora li andiamo a scovare attraverso un'attività di testing e poi di tracciamento, ha aggiunto l'assessore alla sanità. Un'attività che proseguirà nelle prossime settimane con l'avvio dell'anno scolastico. La questione più critica è quella di chi rientra dalla Sardegna. Stiamo facendo un lavoro enorme innanzitutto al porto di Civitavecchia, ha spiegato l'assessore D'Amato. Solamente domenica 30 agosto sono stati fatti circa 3.000 tamponi per i viaggiatori in arrivo dalla Sardegna. L'assessore ha spiegato che avrebbe preferito una modalità di reciprocità con la Regione Sardegna, ma non è stato possibile, ha detto, criticando quelle che sarebbero le carenze della Regione nella gestione dell'epidemia. E dal 1 settembre a Roma sarà attivo presso il parcheggio Lunga Sossa dell'Aeroporto Fiumicino un nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire tamponi rapidi antigenici Covid-19. La struttura, la più grande del Lazio, disporrà di sei checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni e potrà accogliere fino a 130 autovetture. Il drive-in resterà aperto sette giorni su sette con ampia copertura oraria.